buongiorno buongiorno e buon 19 marzo tanti auguri a tutti i papà oggi è la festa del papà festa mia festa di tutti i papà e per anni e anni e anni San Giuseppe era un giorno di festa perché andava a scuola ed era un giorno di festa ed era il giorno della Milano Sanremo meravigliosa tutte le tutti mi ricordo per anni quando ero piccolo davanti alla tv in bianco e nero a vedere le lotte tra Poblet, Darigat, Rick Van Stenbergen un belga famosissimo Rick Van Stenbergen, Darigat, Anquetil, Poblet, Merckx e io me le gustavo io ero tifoso di Poblet 19 marzo dicevo buona festa a tutti ma torno su un argomento che come avete capito in questo momento è un argomento secondo me focale è un argomento base per il futuro del Milan l'allenatore ieri un collega della build ha detto attenzione posso confermare che Ragnik non verrà al Milan la stessa build che aveva detto che Ragnik era vicino al Milan quindi cambio di direzione per i colleghi della build cambio di rotta ma io però mi sono informato mi dicono attenzione nulla è tramontato è sempre un'opzione sul nostro tavolo però questo vi ho già dato una notizia però secondo me alla fine dipenderà l'arrivo di Ragnik secondo me anche da quando finirà il campionato se comincerà non voglio pensare che non cominci prima o poi e quando finirà facciamo un'ipotesi finirà magari il 30 di giugno o il 15 di luglio non cambia nulla perché se finissi il 30 di giugno o a metà luglio potrebbero aumentare le chance di Pioli di rimanere al Milan seguite il mio ragionamento ma i giocatori se finissero il 15 di luglio o il 30 giugno avrebbero diritto almeno magari a quattro no perché la situazione è un po particolare ma potrebbero avere bisogno di tre settimane o quattro di riposo anche se tutto sommato riposo come tanti hanno usufruito delle ferie per per poi magari non andare ferie la prossima estate anche i giocatori sono obbligati a un riposo forzato in questi nefasti giorni e quindi andare a protestare per delle ferie vedremo vedremo ma se ci fossero i famosi tre settimane o quattro di riposo ma voi affidereste a Ragnick un allenatore particolare con gli schemi particolari con le intensità particolari con i metodi particolari metodi che hanno bisogno di lavoro 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 e lavoro poi magari tre quattro settimane fine agosto si inizia praticamente di lavoro sarebbero due o tre settimane di preparazione in vista del prossimo campionato e cosa può fare Ragnick con le sue idee con le sue con la sua filosofia in due o tre scusate sì in due o tre settimane di lavoro ad agosto ecco perché ecco perché forse ai dirigenti del Milan potrebbe potrebbe venire in mente l'idea di continuare con Pioli che ovviamente ha già lavorato mesi mesi settimane settimane con i suoi giocatori e non ha certamente bisogno di rivoluzionare le sue metodologie giocatori lo conoscono e lui conosce i giocatori ecco perché in base anche alla fine del campionato sperando io parlo sempre positivo che inizi mancherebbe altro può darsi che il Milan non osi fare una rivoluzione con un allenatore rivoluzionario un allenatore che ha bisogno di lavoro e le settimane per lavorare per inculcare la sua filosofia potrebbero essere poche ecco perché potrebbe esserci un ripensamento da parte dei dirigenti ecco perché continuo a dire che sarà a Ragnik o Pioli non vedo un terzo allenatore perché per dare un terzo allenatore allora tanto vale tenere Pioli oppure dare a Ragnik che è completamente un rivoluzionario con idee innovative con idee intense con idee nuove quindi Pioli o Ragnik torno sempre su questo out out ma dipenderà molto dalla fine del campionato questo è un ragionamento che mi son fatto mi auguro che siate d'accordo su questi sofismi figli proprio del momento contingente Pioli si continua senza bisogno di lavorare in maniera differente con Ragnik ci sarebbe un ulteriore rischio decideranno i dirigenti di casa Milan se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale youtube di Carlo Pelleca Grazie.